Come va questo day after l'alving su bitcoin? Siamo appunto al giorno dopo, oggi voglio fare un'analisi molto veloce su quello che è successo, su quello che stiamo vivendo, dove ci troviamo in questo momento, perché è un momento storico, cioè bitcoin entra in un'altra epoca, letteralmente un'altra epoca, è cambiato il gioco e effettivamente adesso, anche dal modello stock to flow, vediamo che è arrivato il primo puntino rosso, ci arriverò tra un po'. Prima voglio però farvi vedere e andare a vedere la situazione dei blocchi. Infatti la notizia più bella che poteva arrivare e che è arrivata a seguito del blocco 630.000 è che fosse arrivato il blocco 630.000 e 1, perché è proprio così, cioè niente doveva succedere ma la blockchain doveva continuare ad aggiungere un blocco dopo l'altro, come è appunto avvenuto. Infatti questo evento va solo a certificare di quanto bitcoin si fortifichi giorno dopo giorno e di quanto sempre più persone si interessino a bitcoin e questo è tutto ciò che bitcoin effettivamente vuole. E questo lo possiamo certificare dal numero di wallet che sono in continuo incremento. Adesso refrescio anche questa pagina e andiamo a vedere dal punto di vista dei blocchi, perché è l'aspetto importante, siamo arrivati al 630.086. Vediamo che adesso i blocchi hanno riniziato una produzione che mediamente è appunto quella di essere un blocco ogni 10 minuti, cosa che non era stata così. Anzi, devo dire che nella mattinata di oggi, che è il 12 maggio, il giorno dopo, infatti l'alvin è avvenuto attorno alle 21, mi sembra 21.30, 21.20 del 11 maggio, ora italiana, i blocchi hanno riniziato con una produzione anche più veloce dei 10 minuti, cosa che non era stata qualche momento prima dell'alvin stesso. Infatti c'era stato un rallentamento molto molto insolito nella produzione dei blocchi. Andiamo al blocco 630.000, eccolo qui. Ci sono stati dei blocchi che si sono fatti attendere un bel po' anche una quarantina di minuti a blocco. Mi ha quasi dato l'impressione, questa è solo una mia teoria, adesso vi espongo una mia teoria, che tutti volessero minare l'ultimo blocco, il blocco 630.000 o quello precedente, l'ultimo blocco con la reward più alta. Sembra quasi che c'è stata una gara a rallentare perché tutti volevano arrivare a quel blocco lì. Questa è la mia impressione. In ogni caso, l'ultimo blocco minato con una reward da 12,5 bitcoin è stato il 629.999, perché già dal 630.000 la reward è stata quella di 6,25, ve lo faccio vedere. La cosa che voglio farvi vedere è che il messaggio inserito dentro questo blocco, l'ultimo di questa epoca, è stato questo messaggio qui. New York Times, 9 aprile 2020, con 2.3 trillion dollars di iniezione, il piano della Fed ha superato di gran lunga il piano di salvataggio del 2008. Questo proprio per fare un forte richiamo al primo messaggio inserito nel primo blocco di bitcoin. Per chi non fosse conscio di cosa sto parlando, praticamente il miner che va a minare quel blocco può aggiungere una sorta di memo, una sorta di parte testuale. E questa volta il titolo era questo titolo qui di questa pagina. Questo rimarrà per sempre nella storia all'interno di quel blocco, quindi proprio per sempre fissato nella storia. Ed è il titolo di questa pagina qui. 2.3, noi diremo, bilioni, trillions dollars, di bailout per il salvataggio della situazione. E questo ha superato di gran lunga quello che è stato nel 2008. Infatti nel 2008, che cosa è successo? Io feci questo video per il compleanno di bitcoin proprio quest'anno. Vi rimando a questo video per farvi vedere quattro curiosità che probabilmente non sapevate, a meno che non avete visto questo video qui. La prima è proprio che il primo blocco va a racchiudere questo messaggio qui, che viene appunto da questa pagina di questo giornale, The Times, del 3 gennaio 2009, dove parlava dell'ennesimo bailout, l'ennesimo salvataggio da parte della banca centrale, per le banche, verso le banche commerciali. Quindi l'ennesimo salvataggio da questo punto di vista. E qui parlavamo ai tempi, tutti temevano per la crisi del 2008 e questo salvataggio era della portata di miliardi. Quindi qui all'incirca la quantità di visi si muoveva attorno ai 500 miliardi di dollari. Oggi, in questa crisi che viviamo oggi, siamo arrivati nell'ordine superiore, quello dei trillion, quello dei bilioni, quindi migliaia di miliardi. E questo è un richiamo proprio per dare il segno forte, perché qui bitcoin nasce, questo è il significato, non è il prezzo di ogni giorno, non è la speculazione, questo è bitcoin. Bitcoin nasce per avere un'alternativa e viene sempre ricordato dal suo primo blocco e viene ancora una volta ricordato da questo messaggio inserito nell'ultimo blocco che ha avuto una reward superiore ai 10. Adesso siamo passati a una reward per singolo blocco inferiore, esattamente 6,25. L'hash rate non è collassato, come in tanti si potevano aspettare. Infatti l'hash rate è, bene o male, un hash rate stabile. Questo è il grafico su un anno, lo metto adesso a 60 giorni. Vedete, non c'è stato un collapse, non c'è stata una capitulation dei miners, come in molti si potevano aspettare, quantomeno non subito il giorno dopo. Vedremo questi giorni come continua. Ma in realtà, come annunciato, come abbiamo analizzato, i miners che sono in questo settore già sapevano di quello che sarebbe successo. Non è una sorpresa che da oggi la reward sarà dimezzata. Questo è il blocco in questione, il 629.999. Vediamo che c'è questo messaggio di testo al suo interno, eccolo qui, e vediamo anche che la reward totale è questa, perché ci sono la reward dal Coinbase e la reward Coinbase più le fees raccolte, più le commissioni, che sono addirittura superiori a un BTC. Questo anche per rispondere alla domanda quando finirà, nel 2140, quando finirà la reward dalla Coinbase, quindi quella che è la reward, la generazione di nuovi, noi Bitcoin, come faranno a guadagnare i miners? Guardate, solo questo blocco ha guadagnato un BTC, più di un BTC solo da commissioni. Anche perché c'è stato un rallentamento, quindi parecchie transazioni sono andate ad accumularsi, probabilmente c'è stata un po' di congestione nella rete, proprio nell'ora di ieri, in quel momento vicino all'alving e il costo per transazione si è andato ad alzare. Mi aspettavo potesse continuare anche qualche giorno dopo, invece sembrerebbe che appunto la produzione di blocchi sia ricominciata ad un ritmo molto veloce. Comunque, questa è stata l'ultima generazione a 12,5 Bitcoin. Dal blocco successivo, ossia il primo blocco della nuova epoca, 630.000, vediamo che la generation e quindi i nuovi Bitcoin minati da ogni blocco che arriva ogni 10 minuti circa, adesso saranno 6,25. Una cosa storica, abbiamo analizzato il perché. Brevemente sul prezzo, cosa che conta relativamente poco, ma in realtà conta perché conta, perché questa è la pubblicità che ha Bitcoin verso chi non lo conosce. Quindi, se Bitcoin salisse tanto di prezzo in controvalore, tante persone anche dubbiose si interesserebbero anche solo perché il suo prezzo aumenta. Poi, sempre più persone vanno ad indagare su cos'è e perché nasce se ne innamorano e non lo lasciano più. Sono sicuro che qualcuno tra di voi avrà fatto lo stesso percorso. Sto parlando con qualcuno che si rispecchia benissimo in questo percorso, perché per me è stata la stessa cosa. Ho approcciato come una cosa che avrebbe potuto portarmi un alto valore speculativo, poi sempre di più sono passato dal vederlo come oggetto speculativo e basta a ancora tuttora siamo in una fase speculativa. Bitcoin è appena nato praticamente. Il terzo halving poi diventa sempre di più un'alternativa e un qualcosa che veramente potrebbe portare un'opzione di salvataggio verso un qualcosa che si sta mettendo in maniera sempre più critica. In ogni caso, prima di parlare dei prezzi, considerate che adesso l'inflazione di Bitcoin annua è vicina all'1,8%. Considerate che le monete fiat, euro e dollaro devono mantenere un'inflazione che le stesse banche centrali puntano ad essere il 2% anno. Quindi di ogni moneta che voi detenete il potere d'acquisto va a svalutare quindi il suo potere d'acquisto per comprare bene e servizi svaluta del 2% ogni anno mentre Bitcoin dell'1,5% quindi anche solo questo lo rende già migliore se parliamo di riserva di valore. Poi ci sono tutti gli altri aspetti che conosciamo non andremo a ripetere in questo video qui in particolare ma quello che voglio farvi vedere per chi avesse ancora dubbi su Bitcoin stesso certo come ripeto è nato da poco non è affidabile perché sono solo 11 anni che esiste quindi dobbiamo forse aspettare un po' di più ogni giorno e ogni blocco diventa più forte adesso è diventato molto più forte ha uno stock to flow che vedremo tra un po' molto vicino a quello dell'oro in più prezzo di Bitcoin al primo halving quindi nel 2012 2 dollari prezzo di Bitcoin al secondo halving nel 2016 664 dollari prezzo di Bitcoin al terzo halving quindi nel 2020 attorno agli 8600 dollari 2 dollari 664 dollari 8600 dollari questo è un trend che si è ripetuto ancora molto breve il prossimo halving sarà nel 2024 chissà come proseguirà a proposito di chissà come proseguirà adesso è il momento di dare uno sguardo al modello stock to flow quello classico non l'ex che vi ho spiegato allora questo è un percorso che Bitcoin sembra seguire veramente come Planville ha definito un ubriaco che barcolla e ogni tanto torna sul sentiero ma prima o poi comunque torna e segue quel sentiero faccio un po' di pulizia se no il grafico sembra troppo sporco vi ho già parlato di questo grafico allora qual è questo sentiero? questo è il sentiero di Bitcoin il modello stock to flow vediamo quello che è il prezzo reale di Bitcoin ogni puntino ogni puntino colorato che vedete è stato il prezzo giorno per giorno di Bitcoin adesso siamo arrivati ad un puntino rosso che è questo ultimo che vedete perché? perché abbiamo ricominciato la distanza dall'alving quindi questi colori rappresentano i giorni di distanza al prossimo alving siamo diventati blu quando appunto Bitcoin era molto vicino all'alving blu intenso e adesso a 1400 giorni circa di distanza è ridiventato rosso e guardate dove si trova si trova esattamente sul suo sentiero vedete qui si è discostato ogni tanto e questo è proprio quel rumore di cui vi parlavo in un mio precedente video nell'ultimo Crypto Monday quel rumore portato da manipolazione da mercato che varia ovviamente c'è c'è la speculazione forte che influisce però se guardiamo una immagine un po' più allargata guardiamo vediamo anche che questo ubriaco bene o male torna su questo sentiero e sembra seguire proprio questa traiettoria guardiamolo un po' guardate il prezzo come è andato attorno a questa linea che è il modello di Stock to Flow questi sono tutti i prezzi di Bitcoin fino ad arrivare all'Alving guardate l'Alving a 8600 dollari esattamente sul modello Stock to Flow continuerà ad essere così questo non lo sa bene o male nessuno ma questo si dimostra finora si è dimostrato essere il modello che ha rispecchiato meglio l'andamento di Bitcoin nella linea in rosso vedete la differenza che c'è tra il modello e il prezzo vediamo che quella linea bene o male è molto vicina come se fosse una sorta di media mobile a questo punto siamo all'inizio di questa salita qui avverrà non avverrà beh se i fondamentali dovessero rimanere questi se un blocco dopo l'altro dovesse essere aggiunto alla blockchain e la domanda e l'interesse per questo asset dovesse continuare a aumentare costantemente come sta facendo beh questa è la linea tracciata secondo questo modello il nuovo livello è quello dei 100.000 perché quando arriveremo su questo livello qui il prezzo sarà attorno a 100.000 quando avverrà? beh questo avverrà da qui a circa massimo due anni quindi già nell'estate del 2021 e nel finale di anno del 2021 dovremmo esserci portati su quel livello non è detto che segua questa linea proprio come non ho fatto in passato dove alle volte ha superato anche di molto quindi è andato anche molto fuori al sentiero per poi riportarcisi questo voleva essere semplicemente un breve ripasso e un'analisi del day after continuerò a seguire quello che succederà ovviamente qui su questo mio canale voglio anche farvi sapere che c'è stata questa promozione un po' inaspettata da parte di Ledger che lancia il Ledger Nano S proprio in occasione dell'Alvi ad un prezzo al 50% quindi se pensavate di prendere un hardware wallet prendere un Ledger Nano S avete il 50% di sconto trovate ovviamente il mio link in descrizione per approfittare di questa offerta che durerà fino al 17 maggio così leggo quindi vi lascio il link come sapete sempre in descrizione ancora una volta buon Alvin a tutti e adesso si ricomincia come prima un po' inaspettata un po' inaspettata un po' inaspettata